Regno Unito ferma condanna del premier Keogh Starmer nei confronti dei disordini nel paese. Ha detto è delinquenza di estrema destra. Rischio escalation in Medio Oriente, l'Italia e altri paesi invitano i cittadini residenti in Libano a lasciare il paese il prima possibile. Decine di voli per Libano e Israele cancellati. La pugile olimpica Imanche-Liff ha rotto il suo silenzio e ha chiesto di porre fine al bullismo nei confronti delle atlete dopo le reazioni internazionali ricevute dopo il suo primo incontro alle Olimpiadi di Parigi contro la pugile italiana Angela Carini. La pugile algerina ha dovuto affrontare false accuse sul suo sesso dopo che la sua avversaria italiana si è ritirata a solo 46 secondi dal termine del loro incontro giovedì scorso. Che lì fa richiamato l'attenzione su quanto possa essere dannoso l'esame di genere e sul fatto che può danneggiare la dignità umana. C'è un'esame di risalte all'esame del mondo, che sono stati miscini con le basi dell'olimpia, per la misura dell'olimpia. E' un'esame di 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 un'esame. Carini si è poi scusata e si è detta triste per le polemiche. Kelif dice di aver visitato per anni la città di Assisi nel centro Italia per allenarsi e che la pugile italiana la conosceva da tempo. Kelif ha poi ringraziato il Comitato Olimpico Internazionale per il suo sostegno e per averla difesa. Il merito ha la sua idoneità a partecipare alle Olimpiadi. La pugile ha chiarito che non lascerà che le accuse la dissuadano dal tentare di vincere la prima medaglia d'oro olimpica dell'Algeria nella box femminile. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha condannato i disordini che hanno colpito il paese dopo l'accoltellamento di settimana scorsa in cui sono morti tre bambini. Il premier ha assicurato che il suo governo farà tutto il necessario per consegnare i rivoltosi alla giustizia dopo i continui disordini in alcune parti del paese. Non c'è nulla giustificazione, nulla, per prendere questa azione. E tutte le persone giustizioni devono condannare questo tipo di violenza. Le persone in questo paese hanno il right di essere sicuro. Non mi fai fuori da chiamarlo quello che è, far right thugger. Starmer ha parlato dopo che la polizia della città di Rotterdam aveva lottato per trattenere una folla di rivoltosi che tentava di fare eruzione in un hotel che ospitava richiedenti asilo. Il premier ha giurato di porre fine al caos e di fornire maggiori risorse alla polizia. L'Italia si è aggiunta all'elenco dei paesi che hanno invitato i propri cittadini e i residenti in Libano a lasciare il paese il prima possibile, mentre cresce il timore di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Sabato la raccomandazione di evacuare era arrivata dalle ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito, seguite anche da Francia, Spagna, Svezia, Canada e Argentina. Diverse compagnie aeree hanno cancellato i loro voli da e per il Libano e Israele, causando enormi code al terminal delle partenze dell'aeroporto di Beirut. Le preoccupazioni per un'escalation sono aumentate dopo l'assassinio da parte di Israele, del leader di Hamas Ismailanini a Teheran mercoledì, e del comandante di Hezbollah Fuad Shukur a Beirut la sera prima. Secondo fonti statunitensi, l'Iran potrebbe colpire il territorio israeliano come rappresaglia tra domenica e lunedì. Inutili gli appelli della comunità internazionale a una de-escalation. I ribelli Uti dello Yemen hanno pubblicato un filmato che secondo loro mostrerebbe i resti di un drone americano abbattuto. Dall'inizio della guerra civile in Yemen nel 2014, quando gli Uti si sono impadroniti della maggior parte del nord del paese e della sua capitale, gli Stati Uniti hanno perso diversi droni abbattuti dai ribelli. I droni MQ-9, noti come Reaper, sono veicoli aerei senza pilota che possono essere controllati a distanza e costano circa 30 milioni di euro l'uno. Quasi cento persone sono state uccise e altre centinaia sono rimaste ferite durante le nuove proteste contro il governo in Bangladesh. I manifestanti chiedono le dimissioni della prima ministra dopo le contestazioni del mese scorso iniziate con gli studenti che chiedevano la fine del sistema di quote per i posti di lavoro statali. Le proteste sono degenerate in violenze che hanno provocato più di 300 morti. La prima ministra ha dichiarato che i manifestanti stavano compiendo un sabotaggio, che non erano più studenti ma criminali e che sarebbero stati trattati con il pugno di ferro. Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'arrivo dei primi jet da combattimento F-16 dopo mesi di attesa in una cerimonia tenutasi in un luogo segreto. Zelensky ha confermato che i piloti ucraini già destrati hanno iniziato a pilotare il jet di produzione come statunitense, ma ha sottolineato che c'è bisogno di più aerei e più piloti. Zelensky non ha rivelato quanti jet sono stati consegnati né da quali partner occidentali. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato affermando che la consegna degli F-16 non avrà alcun impatto significativo sul campo di battaglia. La notizia arriva mentre Kiev afferma di aver affondato un sottomarino a Sebastopoli e dopo che venerdì dei droni ucraini hanno incendiato un deposito di carburante nella regione russa di Rostov. Il ministero della difesa russa ha affermato di aver distrutto a sua volta la comunità dei depositi di rinunzioni e attrezzature militari ucraine. La Germania e le Filippine hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore della difesa. Il patto è stato firmato domenica a Manila dal ministro della difesa tedesco Boris Pistorius e dall'omologo filippino Gilberto Teodoro Junior. In un contesto di preoccupazione per la crescente aggressività della Cina nel mar cinese meridionale, soprattutto riguardo alle aree contese con le Filippine. Da decenni la Cina rivendica la sua sovranità sulla maggior parte del mar cinese meridionale, minacciando i paesi circostanti che per questo cercano alleati e protezione nell'Occidente. Anche gli Stati Uniti hanno annunciato un finanziamento di 500 milioni di dollari per potenziare la difesa delle Filippine. Nel viaggio dal Nord Africa all'Europa settentrionale, gli uccelli migratori si affidano alle brughiere per riposare e recuperare le risorse necessarie per raggiungere le zone di riproduzione. Ma l'aumento delle temperature sta cambiando questi delicati ecosistemi. Quando un anello vitale della catena si indebolisce, quello successivo diventa ancora più importante. Quando hai specie migratorie, le uccelli in particolare, sono attraverso grandi distanze. Quando ti avvicini il clima all'interno, a quale punto questi habitat si diventano troppo fatti per la specie migratorie e le residenti? I recenti dati del Copernicus Climate Change Service hanno registrato quest'anno temperature più alte dello scorso anno, accompagnate da un'impennata dei livelli di ozono. Questi cambiamenti mettono gli habitat delle brughiere a repentaglio. A causa del caldo che attraversa l'Europa, le brughiere di Germania, Francia, Danimarca, Paesi Bassi e Gran Bretagna sono una sosta essenziale per questi uccelli. Ma il caldo ne sta influenzando gli ecosistemi. Prima della Brexit, Neil Lister ha guidato un paternariato finanziato dalla UE e incentrato sulla conservazione trasfrontaliera, deducendo come sia essenziale il mantenimento di pratiche coerenti anche di fronte ai cambiamenti del panorama politico. L'ondata di calore di quest'anno ha portato ad un preoccupante calo del 15% di alcuni uccelli. Mentre il cambiamento climatico continua ad avere un impatto in queste regioni, la conservazione delle aree critiche di riposo e della biodiversità che le supportano rimane un obiettivo chiave per gli ambientalisti di tutta Europa. Durante la notte è tornata a eruttare l'Etna, creando nella mattinata disagi e ritardi all'aeroporto internazionale di Catania. Alcuni voli da e per l'isola sono stati cancellati e altri dirottati, poiché la fontana di lava aveva generato una colonna di cenere alta più di 10 km. Nel pomeriggio l'aeroporto è tornato a operare a pieno regime, ma potrebbero verificarsi ancora disagi. L'eruzione è conclusa, ma secondo gli NGV persiste un'attività esplosiva. Diversi camion modificati e decorati sono stati esposti in una mostra d'arte in Romania. Nella fortezza romena di Alba Iulia, gli appassionati possono visitare il salone del camion fino a un giorno prima che i veicoli percorrano le autostrade europee. L'esposizione annuale di camion è giunta alla sua quinta edizione. Gli autisti di camion possono percorrere fino a 10.000 km in un solo mese come parte del loro lavoro, quindi i conducenti che partecipano alla mostra d'arte hanno reso la loro vita più facile, aggiornando e personalizzando i loro veicoli. In mostra c'erano camion con sistemi audio ad alte prestazioni, tappezzerie eleganti, design personalizzati e ogni sorta di altri elementi per far sì che i conducenti siano il più possibile a proprio agio. I capolavori a quattro ruote saranno ora visibili sulle autostrade di tutta Europa.